Cinque biscottini nella tuta gold, baby, me li papperò. Pappuiavamo la zona nord quando mi chiamavi fra... Con i bisco bisco nella tuta gold, tu ne pappavi la metà. Non mi bastano, non mi basterà una sola dose di bisco bisco. Ah, come vedete io stasera oramai canto. Me sbrendo pure le licenze poetiche, modifico le canzoni. Faccio le pattuglie o megasso, me pare, perché tanto le pattuglie dei quartieri l'ho inventate io. E quindi sono libera e padrona di fare quello che me vale. Quindi prima ve lo mettere in testa e prima siamo tutti quanti felici. Ovviamente però non vengono meno gli impegni che ci abbiamo verso la comunità, perché la priorità rimane sempre quella. Quindi il servizio delle polizie dei sottobanconi viene svolto quotidianamente a buon bisogno. Non solo la mattina ma pure la sera. Poi andiamo in giro a controllare se ci sono tracce del ladro dei crocchette che comunque non si è affermato. Continua a rubare crocchette, non le nostre. Ma noi comunque siamo altruisti e quindi ci mettiamo alla ricerca del ladro dei crocchette pure se non ci ruba quelle nostre. Ma i canetti vanno tutelati e quindi ci stiamo noi, ci pensiamo noi, non vi preoccupate. Faccio da scemo, vabbè, il contributo suo come vedete sempre lui va a mezzo all'erba, annusa, fa, fingete, fa cose, ma in realtà non fa un cazzo. Il massimo che fa in servizio del giardinaggio fa alcio all'erba dopo che fa pipì. Ma a parte questo insomma finisce lì. E signori che dire, buona serata.